Ma Sebastiano è un grande giocatore, ha dimostrato queste partite, quindi penso che, come tanti altri giocatori, può essere il simbolo della Juventus. Noi abbiamo tanti giocatori forti, non per niente l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, ne sono arrivati tanti altri, quindi tutti sono giocatori importanti. I nazionali sono tornati tutti, grazie a Deo, tutti sani, quindi sono tutti a disposizione, chi più o chi meno, chi è arrivato un giorno in più, chi è arrivato un giorno in più, però sono tutti disponibili. Poi Andrea è un grande campione e sa gestire le sue forze, quindi non vedo il problema, ripeto, metteremo in campo la formazione migliore, se sarà sempre così non c'è problema. Il turnover non è una parola giusta, noi non abbiamo né titolo né riserve, metteremo in campo ogni partita la formazione migliore, quindi ragazzi che ci danno più naranzie. Su questo non c'è dubbio, però voglio dire, parte un programma mirato ai numerosi impegni di questo periodo? Parte un programma che domani c'è il Genoa, quindi è una partita fondamentale. L'anno scorso ci hanno dato via i punti, l'unica squadra che non si è riuscita a battere, quindi bisogna pensare a Genoa e andare a Genoa sapendo che incontriamo una squadra difficile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.